Ecco, eccoci qua! La giornata di oggi è un po' grigia, ma dentro di noi ci deve essere la luce. Allora questa luce la andiamo a pescare nel Vangelo di oggi. Il Vangelo della liturgia odierna è un Vangelo chiaramente scatologico, cioè un Vangelo che riguarda la parousia, quindi la venuta ultima e definitiva di Gesù sulla Terra, il suo ritorno ultimo e definitivo nella storia e nel mondo. Ma quando verrà? Quando tornerà esattamente il Signore? Questo purtroppo noi non lo sappiamo. Il Signore Gesù però, come ha promesso ai discepoli, verrà di nuovo. Tornerà ancora nella gloria, in un giorno e in un'ora, che a nessuno è dato conoscere, neppure agli angeli del cielo, ma soltanto al Padre che sta in cielo. Per cui l'unica cosa che dobbiamo fare, che ci viene chiesta, è appunto quella di vigilare, di restare vigilanti, di tenerci svegli, desti e pronti, sapendo che il Signore tornerà solamente quando la Sua parola avrà raggiunto il cuore di ogni uomo e sarà tutta in tutti. Solo in quel momento tornerà. Nell'attesa della Sua venuta finale, nell'attesa del Suo ritorno ultimo alla fine dei tempi, cerchiamo allora di costruire, cerchiamo di costruire con umiltà e semplicità nel tempo presente, tanti piccoli pezzi di regno, senza perdere di vista e quindi tenendo conto quella che diceva Santa Teresa di Calcutta, e cioè che ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in tutto ciò che si fa. Pace e bene.